tutto pronto parti ora dei desideri subito in vantaggio sul chameleon che si vede avvicinato all'estero da flipper rimane invece in coda yucatan davanti a sé a comodo ora dei desideri che può così impostare in avanti senza colpo ferire perché flipper non spinge la stessa cosa fa cameleon che si mette lì terzo contatto avendo al suo interno comodo yucatan che invece chiude il quintetto quintetto che va così in maniera tranquilla con ora dei desideri in vantaggio al secondo posto a largo flipper con il cap giallo filtra per via interna e comodo in nero rosa tra i due cameleoni in giuba blu e verde a chiudere gruppo yucatan con la giuba nera al cap bianco niente da segnalare per una corsa decisamente tattica in questa prima fase con ora dei desideri il favorito che mantiene sempre iniziativa in seconda posizione al largo flipper all'interno comodo tra i cavalli è sempre sistemato cameleon e yucatan che si riporta più stretto contatto puntando la corsia larga si ricompattono ulteriormente i 5 lungo l'arco della piegata che vede sempre in avanti ora dei desideri cameleon è il primo che vuole aumentare un po la situazione andando in pressing sul favorito al largo flipper comodo per via interna yucatan all'estero di tutti lunga progressione ora dei desideri che sempre in vantaggio cameleon che si sforza adesso a intensificare il suo attacco yucatan che si prepara al largo di tutti comodo per via interna e flipper che prova a rimanere a contatto passato pletto dei 400 per ora dei desideri che prova ad allungare ancora rispetto a cameleon e a comodo yucatan al largo di tutti che prova intervenire ma è sempre scomposto ora dei desideri che all'ultimo farlong incrementa ancora rispetto a comodo e cameleon ora dei desideri da solo verso la meta ora dei desideri che completa il suo costo costo vincendo facilmente al secondo posto comodo al terzo cameleon poi yucatan e a chiudere flipper un bel successo per ora dei desideri sicuramente affidabilissimo fabio branca in sella per la scuderia fv ai colori stefano botti al training grazie a tutti